Ciao a tutti e bentornati nel mio canale! Hi everyone and welcome back to my channel! First of all, I would like to thank you all for entering the giveaway I hosted on my channel last week and for subscribing to my channel. So, with that being said, let's start this week's video, which is about family vocabulary. Iniziamo a vedere qual è il lessico che fa riferimento alla famiglia. Iniziamo dai genitori, che sono la madre o anche mamma e il padre oppure papà, in contesto ovviamente familiare, mamma e papà. Ci sono poi i figli, il figlio maschio e la figlia femmina. Se una coppia ha figli, questi sono fratelli oppure sorelle, oppure fratello e sorella. Ovviamente ci sono poi i nonni, il nonno e la nonna. I fratelli dei genitori sono gli zii e abbiamo lo zio e la zia. I figli degli zii sono i cugini, il cugino e la cugina. In italiano la parola nipote si riferisce sia al nipote dei nonni che al nipote degli zii. Quindi in entrambi i casi abbiamo il nipote e la nipote. That was it for today's video, I hope you enjoyed it and that you learned something new from it and I will talk to you very soon in my next video, next week. Ciao ciao!